Con un magico medaglione, la piccola Yu può trasformarsi nell'abbenente Krimi. E subito, grazie a bellezza e talento, riesce a diventare una famosissima cantante. Ma riuscirà a tenere segreta la sua vera identità. Arriva su Manga, la più amata tra le maghette. E per la prima volta, in versione integrale. L'incantevole Krimi. Dal lunedì al venerdì alle 20.55. Solo su Manga. Sky, canale 149.